buongiorno mister angelo di livio tanti auguri di buon compleanno ti voglio bene ciao un grande abbraccio ciao mister tanti auguri a te il più grande di turchia da sempre sono contento di tanti anni fa lavorare con te vedo che ancora stai lavorando bene benissimo anche con i giocatori rumeni ti deseo solo che c'è la salute e tante vittorie un abbraccio mister ciao ciao fatti tanti auguri di buon compleanno entro fine settembre vorrei venire a istanbul visto che mia moglie è pazza della città di istanbul e vuole vederla poi io personalmente vorrei vedere anche una partita di calcio del galatasaray per poi dopo parlare anche di calcio un po con te ciao fatti un abbraccio caro fatti amico mio buona giornata una grande giornata per te buon compleanno di cuore ti auguro una giornata bellissima e mi auguro che ci possiamo vedere presto ti abbraccio forte forte grande mister 68 auguroni con grande affetto con grande amicizia che dirti ti auguro ancora 100 di questi giorni ti porto nel cuore auguri con grande affetto ti voglio bene grande imperatore un bacione grande ciao 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 mister spero tutto bene con lei mi mando un forte abbraccio e tanti auguri di compleanno buon compleanno mister ciao imperatore un abbraccio grande papà tanti auguri che sia un giorno molto felice per lei e lo sa più che un allenatore sono un amico per tutta la vita e c'è un orgoglio tremendo di averlo così allenatore e amico un forte abbraccio amico mio hanno detto adesso a scari che oggi è la festa di compleanno del numero uno degli allenatori dell'imperatore degli allenatori fati teri io voglio partecipare alla tua festa tranquillo dimostri solo i migliori sei un amico tanti auguri fati ciao mister come sta auguri per il suo cumpleanno so che oggi è la sua festa le mando un abbraccio molto grande sono uno che ho guardato tantissimo il suo carattere che sempre ha messo so soprattutto la sua squadra sono un ammiratore di lei lo saluto auguri e in bocca al lupo per tutto ciao happy birthday to mister galatasarai mister fati terim best wishes from london big congratulations i hope you have a nice day and hope to see you soon bye ciao fati ciao fati my dear friend fati many congratulations enjoy your birthday with your amazing family to be able to celebrate your 48th birthday with its happiness is amazing i say 48 because nobody believe you are 68 and i wish you the most of the happiness and i know that for you to be happy that for you to be happy you need football so keep showing how great you are and from rome you know that you have a big friend and a big supporter hello fati happy birthday i know you are one year younger every year be careful because if you go down at that pace soon you will start to play again anyway enjoy your day i hope you will be surrounded by all your family and your friends and hope as well to see you soon bye hello 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 Grazie.